Maiko Italia con i suoi marchi Elicente di Nair è un'azienda leader nel settore della ventilazione. Negli ultimi anni ha investito parecchio del suo tempo e delle sue risorse nella attività di ricerca e di sviluppo dei nuovi prodotti e soluzioni tecnico-impiantistiche. In particolare oggi andremo alla scoperta di uno di questi nell'ambito della ventilazione e dell'aspirazione fumi in caso di incendio. Venite con me! Ci troviamo all'interno dell'ufficio tecnico di progettazione di Maiko Italia Elicente di Nair. Questo è il cuore pensante dell'azienda, all'interno del quale viene effettuata l'attività di ricerca e sviluppo di nuovi prodotti. In questo senso abbiamo recentemente raccolto l'esigenza di sviluppare ulteriormente una gamma di prodotti destinata all'estrazione fumi in caso di incendio. E' questo il caso dei nostri box cassonati, box T.H.T., che vedremo adesso illustrati con il collega responsabile del progetto. Si troviamo all'interno dello stabilimento produttivo di Lonato del Garda, in provincia di Brescia, dove viene realizzata l'intera gamma dei nostri prodotti per la ventilazione industriale. Andiamo ora a scoprire con il collega Marco Ferlenga i particolari di quest'ultimo prodotto. Ho il piacere di presentarvi la nostra nuova gamma di ventilatori cassonati a doppia aspirazione e a trasmissione. Questa nuova gamma è composta da 12 modelli che vanno dalla taglia 7.7 alla 18.18, 500 fino alla 6.30. Si ha una prestazione che varia da 1000 m3 a 47.000 m3. Andiamo a scoprire le peculiarità di questo ventilatore. Si compone di due vani, un vano motore e un vano ventilante, ispezionabili, dove troviamo alloggiato il motore all'interno del cassone. Questo permette un risparmio sugli ingombri e quindi una facile installazione. Il motore è fuori dal flusso, installato su delle slitte regolabili. La cinghia di trasmissione è protetta da un carter isolato termicamente e i due vani sono separati da un'apparatia rivestita con lana di vetro. La macchina ha un telaio in profili d'alluminio con pannelli in lamiera da 25 mm. Il vano ventilante è isolato termicamente grazie a una guarnizione in fibra di vetro e tutta la macchina è alloggiata sopra a una struttura in acciaio. Inoltre, per facilitare la connessione alla rete elettrica, tutte le macchine sono fornite di scatola morsettiera esterna. Questo permette una facile installazione. Questa nuova gamma di prodotti, questi box cassonati alta temperatura F400, che vanno a completamento della nostra gamma di estrattori, fumi in caso di incendio, ventilatori per autodimessi e sistemi di pressurizzazione per locali, filtro fumo, serrande, tagliafuoco e controllo fumo. Maico Italia è a disposizione dei propri interlocutori per fornire un servizio di assistenza tecnica pre e post vendita. Grazie. 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 Grazie.